Ciao a tutti, bentornati sul mio canale! Una cosa che non vi ho mai detto, ragazzi e ragazze, se cliccate qua in alto o qua giù, se è un computer o un cellulare, potete guardare il video in HD, che lo vedete nettamente meglio. Passiamo oltre! Allora, nuovo video, lo so, è da molto che non ve ne facevo, ma finalmente c'è una novità di cui vi devo assolutamente parlare, che è distribuita in Italia da marzo, sto parlando di una novità natura siberica, sto parlando di viso e sto parlando di anti-age, quindi due accoppiate che per me sono il top, ovviamente le ho ricevute gentilmente dalla Cosmetica Bio, sapete che io sosterrò e segnalerò sempre questo e-shop, che è di una ragazza fantastica che si chiama Federica, e veniamo a noi, veniamo a noi, non ho ovviamente tutto perché sono due linee complete, ma vi spiego un po' che cosa ha composto questa linea, in particolare mi soffermerò sulle maschere, che sono secondo me una chicca forte della linea. Allora, partiamo subito! Prendiamo crema da notte e crema da giorno, qui ho Caviar Gold, creme de jour, active pour le visage, e poi ho invece la Caviar Platinum, creme de nuit, mood long. Allora, entrambe sono a base di caviale nero, vi ricordate che abbiamo parlato della linea Black Caviar, se trovo il video vi lascio la scheda qua in alto, che era un po' la linea anti-age un po' più importante del brand Natura Siberica, ecco, qui, oltre al caviale nero, sono state aggiunte in base alla linea Platino Colloidale o Oro Colloidale. In realtà non esiste una vera e propria differenza tra le linee, nel senso che sono due linee anti-age, in particolar modo la linea Platinum è anche un pochettino più ristrutturante e compattante. La linea Loro è un anti-age globale, una linea Genesse, diciamo. Poi ogni prodotto della linea si differenzia per un'azione o per un'altra e lavorano benissimo anche in combinazione. Ad esempio, una cosa che mi piace molto è che troviamo linee dedicate alle pelli miste, referenze dedicate alle pelli miste, che per me è molto importante. Partiamo dalla Caviar Gold, tra l'altro guardate che belli packaging, nella Gold sono tutti Gold, nella Platinum sono tutti Platinum. Quindi, crema da giorno, iniezione di giovinezza, caviar siberiano e oro attivo, appunto. È una crema multiattiva, ultra idratante e viene definita, ovviamente, stimola la naturale produzione di collagene come la linea Black Caviar e inoltre, beh, lavora rughe, compattezza e ha una texture leggera adatta a pelli impure. È molto comodo il fatto che abbia l'erogatore a pump inserito in un tubo rigido, quindi non flessibile e abbiamo all'interno 30 ml. È una crema parecchio attiva per essere una crema da giorno, cosa secondo me assolutamente interessante. Non abbiamo all'interno parabeni, PEG, BHT, BH e oli minerali e se parliamo proprio di attivi, che è la parte che ci piace di più, abbiamo estratto di caviale nero, oro e un complesso energizzante di erbe, appunto, poi abbiamo acido ialuronico, polipeptide, vitamina F e speciali pigmenti. Ora, vi faccio vedere. Io all'interno ho fatto molta fatica a vedere questi pigmenti, quindi non capisco in che senso noi parliamo di pigmenti, perché è in colore. Però il profumo è molto piacevole, ha una nota quasi leggermente erbacea. La cosa che mi fa impazzire è che si assorbe in un nanosecondo. Lascia la pelle molto compatta e molto luminosa. Finalmente un anti-age anche per chi ha la pelle che tende a lucidare o una pelle comunque mista. Versione notte, ce l'ho invece della Platinum e qui vi faccio un piccolo disclaimer all'Oea. Questa contiene siliconi, solo questa referenza. Ho anche l'altra, ma ce l'ho di là e non vedo dove è, però sappiate che c'è la crema notte anche senza siliconi, ma la creme de nuit modellante intensive pour le visage è siliconica. Quindi per chi di voi è alla ricerca di un inci verde, il silicone non è verde, ma come sapete Natura Siberica ha linee certificate, linee no, linee di cosmesi tradizionali, partendo sempre da una base naturale. Torniamo a noi. Allora, questa è una crema nutriente ad azione anti-age, è nutriente e aiuta proprio i cedimenti strutturali, quindi la perdita di tono della pelle. Inoltre aumenta la resistenza della pelle e qui vi parlavo proprio di, nella linea Platinum, di un lavoro proprio di anti-age anche a livello strutturale, quindi di atonia della pelle. Ovviamente abbiamo l'estratto di caviale nero, ma in texture leggera, stimola anche la produzione di collagene. Qui abbiamo l'estratto di caviale nero, platino, polipeptidi, due tipi di polipeptide, poi abbiamo l'Active Northern Lifting Complex, che è un complesso liftante, e poi abbiamo pantenolo, vitamina F e coenzima Q10. Quindi siamo in una struttura anche più cicatrizzante, compattante, levigante, meno anti-age globale, un pochettino più specifica, ecco, specifica e trattante di determinati tipi di anestetismi. Anche qua erogatore a pump, anche qua texture molto morbida, anche questa dedicata alle pelli in pure, quindi nettamente più asciutta di un nutriente anti-età, ovviamente disclaimer ve lo faccio. Parliamo poi di siero. Il siero invece vi propongo il caviar gold. I packaging secondo me sono spettacolari, e cosa che mi piace molto di questa linea è il lusso che emana, veramente non ha niente da invidiare alla profumeria luxury per quanto mi riguarda. È una linea leggermente più costosa di quella a cui noi siamo abituati di natura siberica, ma è anche la linea secondo me con la più grande expertise anti-age di tutto il brand. Siero, una bellissima sorta di ampoule con contagocce, appunto gold. È un siero viso e collo, sono 30 ml di prodotti, siccome è bellissimo. La texture, ve la faccio vedere, è gelificata e ha come delle particelle dorate al suo interno. Per chi lo conosce ricorda un po' il primer Lorde Guerlain. Il profumo è delicato, più fresco e fiorito, e anche questa nel momento esatto in cui noi lo stendiamo ha questo effetto estremamente illuminante. tutta la linea gold, io noto subito l'effetto luminoso che dà la pelle, proprio la pelle diventa luminosa dall'interno, bellissimo effetto, bellissimo. Qui viene definito siero collo, ovviamente, intensivo ad alta concentrazione, mira a migliorare il naturale rinnovamento cutaneo e stimolare la produzione di collagene, quindi tonicità e compattezza della pelle. Se noi parliamo invece di inci del prodotto, abbiamo estratto di caviale nero e oro, il compresso appunto wild herbal di cui parlavamo prima, abbiamo acido ialuronico, vitagenil, che è proprio un complesso della linea, e pepatite complex, che è un altro complesso della linea, e ceramidi. Quindi abbiamo un siero che è anche proprio rigenerante e illuminante da far paura, ve lo dico io. Sono due linee anti-age molto strutturate, hanno proprio un effetto mise en buttee immediato visibile. Grande scoperta. Occhi, e qui torniamo alla platinum, ho voluto praticamente comporre una skincare routine completa, con i vari pezzi delle due linee che si adattavano di più alla routine che cercavo io. Occhi, torniamo al color platinum, sempre una sorta di ampoule con contagocce, questa è una texture lattiginosa, poteva secondo me non avere il contagocce, perché ha una texture non densa come un'emulsione, ma neanche liquida come una texture sierosa. La fragranza è fresca, ma quasi del tutto assente. La crema arriva a rottura abbastanza velocemente e raggiunge per qualche frazione di secondo una texture quasi balsamo, fino poi ad assorbirsi completamente nella pelle. Ha un effetto liftante immediato, si vede proprio come apre la zona, si nota immediatamente. Vi è definito un eye serum, e lavora sul luminosità, occhiaie, riduzione delle borse, effetto lifting. Ovviamente è un anti-age globale, la cosa che mi piace molto di questo siero occhi è che lavora sia tutto il discorso del cedimento strutturale del preoculare, delle zampe di gallina, delle rughe da disidratazione, sia borse e occhiaie. All'interno di questo prodotto abbiamo il strato di caviale nero, l'Active Northern Lifting Complex, il complesso polipeptidico, il Regway Age Complex, che è un altro complesso firmato dal brand, Vitamina C e speciali pigmenti, Vitagenil e Natural Pentavitin. Sono dei complessi di principi attivi che vanno a lavorare sia la ritenzione appunto poi che il discorso dell'anti-age. Anche qui i pigmenti, come vi dicevo, non li vedo, ma si nota che è un siero vitaminico, si nota immediatamente la Vitamina C, proprio per la luminosità che dà al preoculare. Veniamo al prodotto sul quale io mi sono voluta concentrare, volevo, volevo, volevo parlarvene, sono le maschere della linea. Secondo me con queste maschere il brand ha aggiunto l'Overdrive. Partiamo dalla mia preferita in assoluto, che è della linea Caver Platinum, è la Mask U Collagen Visage EQ, quindi è una Collagen Face & Neck Mask. Allora, io propongo un minuto di silenzio per i packaging. Guardiamo il lusso dei pack e dei flaconi, cioè dei... meravigliosi. Sono 50 ml di prodotto. Questa ha una texture pazzesca che vi devo far vedere, ma non farò come in diretta al mese scorso quando vi ho fatto ridere a tutte, perché per farvela vedere ho rovesciato mezzo vasetto. Perché è gelificata ma molto liquida e all'interno come delle perle argente. No, basta, io se no faccio il bis come durante la diretta. È una delle maschere anti-age più belle che io abbia mai fatto. È una texture gelificata trasparente, si assorbe quasi del tutto. Quando andate a rimuoverla avete la pelle, ha un effetto plumping sulla pelle pazzesco. Sembra che abbia richiamato acqua in superficie. La pelle ha un grandissimo turgore, una bella luminosità e tantissima compattezza. Prodotto stupendo questo. E qui abbiamo tutto quello di cui abbiamo parlato, in più herbal collagen, acido ialuronico, vitagini, pantenolo e ceramidi. Una delle uniche maschere anti-age molto attive che non mi arrossa e non mi dà fastidio, virgola. Anzi, torniamo alla linea gold e parliamo della Protein Face and Next Mask Regeneration and Nourishment. Allora, questa ha una texture diversa dalla precedente perché è una texture cream classica. Io questa l'ho fatta per adesso solo una volta, quindi ve ne parlo in modo più superficiale dell'altra. Anche perché è parecchio ricca, è una maschera proteica e quindi per il mio tipo di pelle sarà più adatta più avanti. Tra l'altro tutte queste maschere sono studiate per intensificare l'azione delle creme dei serie, delle linee. Quindi è proprio una skin care globale che lavora in sinergia. Sono tutte da una posa 10-15 minuti e questa proprio lavora e stimola la rigenerazione cellulare. È una maschera estremamente nutriente. Anche qui abbiamo un livello molto interessante. È un complesso proteinico, vitamina F, coenzima Q10, acido ialuronico e ovviamente oro, black cardia extract e wild herbal energizing complex. Qui tra le proteine, il coenzima Q10 e la vitamina F si sente proprio l'effetto, anche il nutrimento che dà alla pelle. Veniamo all'ultima maschera di cui vi parlo che è sempre l'ina Platinum ed è la Intensive Regenerating Face Mask. Qui invece abbiamo un colore fazzesco perché è nera. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È nera con delle perle argente, non si veda mai, forse dal tappo. Ed è liquida come la prima che abbiamo visto. Ecco qua che cola, non sapevo. A vero, almeno ve la faccio vedere. Ecco, diciamo che le ha prima e la terza, non so se ci viaggerei, a meno che non le depotto. Questa, anche questa. A me questa texture gelificata piace molto, dico in realtà. Ed è una maschera che lavora sui segni di stanchezza e sulla radiosità della pelle. Insieme alla collagene è sicuramente la mia preferita, nonché la più adatta per il mio tipo di pelle. Aiuto a distendere le rughe e a sudare l'ovale del viso. Questa è indicata anch'essa per tutti i tipi di pelle. E all'interno abbiamo un complesso polipeptidico, Platinum, l'Active Northern Lifting Complex, acido ialuronico, vitagene, il pantenolo e un complesso vitaminico A, C, E ed F. È una maschera estremamente vitaminica e questo la rende anche estremamente illuminante. Cosa dire? È una linea, sono due linee che io vi consiglio in modo particolare, mi sono piaciute da morire e ho voluto parlarvene, ovviamente in un tempo ragionevole per averle provate. E le abbiamo viste anche insieme in diverse dirette, so che eravate molto curiose. E quindi finalmente eccomi qui. Gentilmente la cosmetica bio ci fornirà un codice sconto del 10%, credo del 10%. Io comunque in questo momento non so il codice, non lo ricordo, ma ve lo scrivo qui giù nell'info box codice sconto e importo, che credo sarà del 10%. E avrà una validità, vi scriverò anche la validità, quindi insomma se siete curiosi di trovare vi lascio, usate pure il codice. Ovviamente io non ci guadagno niente, ma basta non ve lo dico più, tanto lo sapete come l'ha aperto. Spero di essere stata utile, un bacione e al prossimo video.